Prova senza dubbio dignitosa, vittoria probabilmente di Pirro e tanti rimpianti, ma a questo punto è come farsi del male. Gli errori sono stati troppi, ciò malgrado sarebbe bastato davvero poco per centrare almeno i play-out in generale a fare la differenza il pessimo mercato di gennaio. Ma questa è storia nota, di cui abbiamo parlato a tempo debito con Dovizia di particolari. Grassadoni ha conquistato la terza vittoria in 13 gare della sua gestione, bottino di 15 punti. Il match con la Reggiana è stato deciso da un gol di Capone che ha spezzato un digiuno lungo quasi 17 mesi. Il classe 99 di proprietà dell'Atalanta non segnava dal 21 dicembre 2019, quando con la maglia del Perugia firmò una delle due reti del successo sull'Entella. Tra i rimpianti è anche quello di non aver potuto fruire prima, a causa infortunio, delle prestazioni di Massimo Volta che ha guidato la difesa con carisma e personalità. Il centrale, che coprirà 34 anni il prossimo 14 maggio, non giocava una gara intera dal 3 luglio 2020, trasferta di Crotone con la maglia del Benevento. Rimandato dunque il giorno del giudizio, solo in teoria c'è, meglio dire, ci sarebbe una tenuissima speranza. Il Pescara deve infatti vincere le ultime due, Cremonese fuori e Selernitana in casa e confidare in un incastro virtuoso di risultati favorevoli. Molto più opportuno essere realisti. Se per esempio il Cosenza dovesse battere il Monza, la retrocessione, anche in caso di vittoria allo Zini, sarebbe già aritmetica. E allora chiudere con dignità e il minimo sindacale contro la Reggiana le aspettative di Grassadonia non sono andate deluse. Naturalmente non è sufficiente, d'obbligo confermarsi. Poi si tirerà una linea. Venerdì la trasferta di Cremona, ore 14. Ancora tante le defezioni. De Sena, Rigoni, Balzano, Memuscia, Idrudi, Maestro, Valdifiori squalificato, Galano più no che sì. In dubbio Bellanova e Busellato. Previsto il rientro di Andrea Tabanelli, la cui ultima partita, causa infortunio, risale al match esterno di Frosinone dello scorso 27 febbraio. Il primo della gestione Grassadonia.